il terzo centrale è meglio aspetta ma è quella buona eccolo aspetta 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 vai balla vai balla balla poi si rompe il cellulare si, lo vittutino è un bel dono me il bacio è un tre quattro il tanto di tale va non me l'ha puntato pure il quarto aspetta 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 aspetta